Il Tottenham di Villas-Boas parte bene in amichevole contro la squadra di terza categoria dello Stevenage. Ma oltre a ottenere la sua prima vittoria, il portoghese vede uno dei suoi due nuovi acquisti andare subito a rete. Si tratta di Sigurdsson. È stato bello fare gol, ma la cosa più importante era tornare a giocare. Ci siamo allenati duramente per ben dieci giorni, adesso tutti stanno tornando in forma. Ma la cosa più divertente è sempre giocare le partite. Sicurdsson è uno dei due nuovi arrivi a White Hart Lane, l'altro è il difensore belga ex Ajax Jan Fertongen. I due arrivano in una squadra giunta a quarta in campionato la scorsa stagione e che mira a migliorare costantemente. Il Tottenham è una squadra fantastica e dopo che tutti saranno tornati dagli europei, saremo anche più forti. Dopo che saremo andati in torneo in America, vedrete, tutto si metterà per il meglio. La tournée negli Stati Uniti li vedrà affrontare i Los Angeles Galaxy di Beckham, i New York Red Bulls di Thierry Henry e anche il Liverpool.